Oh, belli questi Guarda te Questi sono forti Ciao albafica Benvenuti Io mi sto un po' così Annoiando Spero che almeno serva a fare A qualcosa a fare questi dungeon Perché io ancora non ho capito come funzionano Ma guarda te questo E mi dà i ciottoli Oh mia che loser Alla barra della vita Alla barra della resistenza Esattamente allo stesso livello Guardate che caso Da dove arrivano questi qui Alla barra della resistenza Mamma mia ma chi è che fa tutto questo casino? Buongiorno Amame mamma mia che bastosta qui c'era tanta gente però sicuramente c'era un tesoro molto valido ora so ti torno uè uè di che cosa cavolo state parlando gente non pensavo che la mia trasmissione sarebbe diventata gossip girl non mi importa di voi 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 sarebbe stato un problema se fossi stato un ciccino più debole allora cazzo vacante intanto 49ers forever dice che mi segue e sei rimasto l'unico perché per il resto è diventato gossip girl allora non che per me non che mi dispiaccia eh anzi maxis crignone a forma di bara ma forse perché è una bara cali su delle catacombe yuppidupi andiamo avanti basta basta oh allora leggiamo i commenti momento cuoricini grazie per il momento cuoricini black star benvenuto dice che vuole la cam io gli dico che non ce l'ho quindi può anche continuare a volerla ma tanto non ce l'ho lo stesso qui è dove ce l'ho stata all'inizio non ce l'ho proprio non è che ce l'ho e non la metto non ce l'ho proprio quindi questo è un posto chiuso queste non sono a parte quindi mi sa che mi devo buttare giù proprio da dove sono venuta e non c'è niente mi sa che mi devo proprio buttare giù e basta ma è giù e da dove sono venuta però non capisco proprio vabbè ma almeno mi sembra che sia da dove sono venuta direi proprio di sì beh forse è per dire che devo andare dall'altra parte proviamo ciao lanternina forse dovrei andare a livellare che dici che dici Per il prossimo Devo arrivare a 40.000 Questo l'ho già fatto Poveretta ma che cosa Che cosa mi ha Che cosa mi ha fatto Questa povera ragazza Prima a sinistra Poi a destra Così non ci si perde Buongiorno Grazie Anche se ne ho tipo già 1.000 500.000 Dovrei vendere qualche gemma Adesso appena esco Da questo posto Di MMM E vado a vendere Qualche gemma Ma ragazzi Alla fine io penso Correggetemi se sbaglio Che Sia meglio Farsi uccidere Piuttosto che No Non era questo Il discorso Mamma mia Come sono forti Santa Polenta Che sia meglio Comunque Trasmettere Anche se non sia Niente di Particolare Da far vedere Piuttosto che Non trasmettere Io ho il condizionatore Che non fa freddo Oppure non ce la fa A far freddo Chi lo sa Forse perché È troppo caldo Da me Bah Certo anche giocare Col caldo Mamma mia Ho messo 25 Dovrebbe essere Proprio sufficiente Cioè io tipo Adesso sto giocando Proprio soft Infatti mi sono fatta Uccidere Proprio A nabbagine Carino questo sistema Davvero carino Non l'avevo ancora Mai usato Vabbè che adesso Potevo anche non farlo Perché La nebbia Questa è particolarmente Cattiva Comunque vedo che Anche giocando così Abbastanza soft Si sale di livello Abbastanza Facilmente Rapidamente Sicuramente più che Incastrarsi in un posto Che non si riesce a fare Che è troppo difficile Café Inchie Ma 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 Ma